Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. In A12 per un incidente l'entrata di Colle Salvetti è chiusa al traffico in entrambe le direzioni mentre l'uscita è chiusa provenendo da Livorno. In A1 rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano in direzione Roma. Si informa che le aree di servizio di Montepulciano Est in direzione Bologna e di Badia Alpino Ovest in direzione Roma sono sprovviste di GPL. Sulla FIPILI rallentamenti per lavori tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Sulla statale Trebbis-Tiberina scambio di carreggiata per lavori tra i chilometri 140-500 e 142-900 nei comuni di Pieve Santo Stefano e Sansepolcro. Muoversi in Toscana Info è in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!